DDJ FLX4 o DDJ 400? Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude me lo chiedete in tantissimi da quando è uscito questo nuovo controller Pioneer si è scatenata la guerra ma conviene rimanere con la DDJ 400 ma che cosa in più ma gli aggiornamenti e lo smart CFX e lo smart fader ma mix da solo e posso mixare anch'io insomma facciamo chiarezza fra queste due entry level molto molto interessanti per tutti voi un bel confronto fra la DDJ 400 e la DDJ FLX4 la Flex 4 che ha preso ufficialmente il posto sì perché sul mercato delle apparecchiature per DJ c'è stata l'interruzione della Pioneer DDJ 400 e della produzione la Flex 4 andrà a sostituire cioè già sta sostituendo e la domanda più importante è quella ma conviene sbarazzarsi del vecchio DDJ 400 a favore del modello più nuovo oppure no ne vale la pena insomma pur essendo molto molto simili i dubbi rimangono ma allora che ci stiamo a fare anyway andiamo a vedere eccole qua DDJ 400 e Flex 4 a destra sono molto molto simili in termini di funzionalità la Flex 4 però offre nuove soluzioni creative come gli smart FX CFX questo tasto qua è lo smart fader funzioni che avrete visto sicuramente nel video ufficiale della Pioneer DJ FLX4 qua su SOS4DJ ma ve le ricordo velocemente che la smart CFX attiva queste due manopole che in realtà sono filtri classici ma diventano cliccando questo schiacciando questo una combinazione di più effetti effetti macro che si possono anche selezionare tramite lo shift e smart CFX insieme mentre lo smart fader questa cosa che ha inorridito molti DJ è questa funzione che schiacciandola farà fare transizioni fluide alla macchina regolando i bpm e il volume della musica un po' come se fosse il DJ è un'altra cosa molto importante il microfono della Flex 4 che si può utilizzare direttamente per fare live streaming una cosa utile perché l'ingresso del microfono può essere instradato tramite usb al computer cioè il tuo mic andrà diretto allo streaming senza mixer esterno queste sono le differenze tecniche diciamo principali perché il resto è tutto molto vicino come vedete le jog praticamente uguali gli 8 pad le stesse funzioni cue play in e out il loop il mixer nella stessa configurazione del 400 con la flex 4 e diciamo tutte le cose escluso questi smart fx smart fader sono più o meno simili compatibilità software per dj qui cambia parecchio perché la flex 4 sembra averne di più perché è compatibile sia con record box così come la di dj 400 che con il software serato dj sblocca la versione completa di record box e ti consente di utilizzare serato dj lite una volta collegata al computer mentre se desideri utilizzare serato dj pro ti servirà un aggiornamento del software a pagamento e da pochissimo la flex 4 supporta così come la dj 400 anche virtual dj finalmente dire è stata sbloccata perché quando era uscito era un po in forza adesso è ufficiale e un'altra notizia ottima per la flex 4 è che è compatibile completamente con l'imminente app per le performance record box dj che sarà rilasciata fra poco nel 2023 quindi record box serato dj lite e virtual adesso mentre questa record box e virtual diciamo subito che se hai già la dj 400 passare alla flex 4 se ti interessano queste cose che ti ho detto vale la pena altrimenti la buona e vecchia dj 400 fa ancora il suo e non è proprio fondamentale andare a cambiare sì perché la dj 400 è ormai fuori produzione entrata a far parte della collezione di pioneer e se la vorrai acquistare diventerà sempre un po più difficile andarla a trovare praticamente sui canali esterni ma più che altro non puoi contare più sul fatto che ci sarà il supporto per molto tempo in termini degli aggiornamenti software ufficiali e del servizio hardware per la dj 400 le differenze sono più che altro estetiche ma contano e non contano è un discorso che vi deve piacere a voi questo è un pochino più sul grigio oscuro mentre qui è più sul nero e i pad sono in maniera rossa qui più sul giallo beh andiamo subito ai vantaggi e agli svantaggi per la flex 4 una aggiunta delle smart effects e dello smart fader come detto il microfono che fa quel giochino carino per lo streaming il serato dj lite e il virtual dj che fa veramente un ampio spettro di software per questo controller l'app performance record box dj che sarà presto compatibile e la combinazione di colori i contro diciamo gli svantaggi è che è molto simile alla dj 400 con i suoi pregi e i suoi difetti fader del pitch sono veramente ancora piccoli quindi se qualcuno vuole mixare non è facilissimo dico a mano e i pad sono ancora un po plasticosi diciamo così la qualità non è proprio eccellente rimasta un po quella della 400 però giustamente è un entry level mentre la dj 400 come pro può essere trovato di seconda mano a buon mercato probabilmente ora ci saranno molte unità usate in ottime condizioni disponibili e poi alcuni la preferiscono nera preferiscono i colori e sicuramente è un controller che è assodato e va molto bene come contro a che il dj 400 è stato interrotto alla fine del 2022 quindi aggiornamenti e novità stop e quindi quale conviene acquistare la dj flex 4 è un ottimo dispositivo ma non è esattamente un grosso passo avanti rispetto al set le funzionalità della dj 400 quindi vale la pena acquistare un nuovo pioneer e se ce l'hai ti entro nel senso se non ti servono tutte queste cose che ti ho elencato non vale la pena sostituirlo e se non ti serve lo smart fx lo smart fader tieniti la dj 400 che sostanzialmente non cambia molto e magari se non ti interessa al serato perché poi questa record box virtual sei a posto quindi tutto sommato molto simile con piccoli cambiamenti un rinnovamento se queste cose fanno per te cambia altrimenti tieniti la tua buona dj 400 se invece devi acquistare un dispositivo completamente da zero come entry level questa è una buona macchina dj flex 4 fa al caso tuo così come faceva la dj 400 quando era in vendita a meno che tu non la voglia comprare usata oppure in qualche rimanenza di magazzino fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti corsi per dj corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero vuole fare tutto il percorso per dj e per chi vuole migliorarsi perché oltre non va quel tetto che ormai si è creato da tempo ma anche per chi vuol fare il salto definitivo verso il professionismo consulenza su tutti gli argomenti trattati dal canale comprese le questioni burocratiche e suonare in regola oltre alle nostre pagine social cioè si aggiunge alle pagine social il nostro tik tok video shortissimi dove potrete seguirci e avere informazioni veramente brevi su tutti gli argomenti che vi interessano vai e seguici c'è anche la nostra community telegram se vuoi puoi unirti a noi ovviamente è gratis il nostro canale youtube se vuoi puoi iscriverti darci una mano a crescere per darti sempre tutto questo gratis un sacco di video che puoi anche controllare tramite le playlist in modo che tutto più facile di ricerca per te anche tramite il tasto cerca video solamente per dj e solamente di produzione musicale tantissimi video il nostro ufficio al merchandising negozio per andare a acquistare la linea anyway la linea ss4dj la linea i play what i like e la linea suono solo quello che mi piace vuoi essere informato su tutti i video che compaiono e le live streaming le diretto e tutto ciò che accade sul canale attiva la campanella e lo sarai inoltre poi mettere un mi piace e condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo possa essere loro utile ci vuoi aiutare puoi fare tramite super grazie qui sotto o il tasto sostieni sos for dj dj 400 o flex 4 adesso avrete tutti gli elementi per decidere se tenervi la vostra 400 se acquistarne una nuova o se fare l'upgrade diciamo così alla nuova macchina uscita per casa pioneer da parte di sos for dj e claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti sempre importantissima ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro migliore premio